La Bundesliga tedesca è ripartita, la Liga Spagnola riparterà nella seconda settimana di giugno, l'Italia comincia a procedere spedita verso la ripresa della Serie A. In un'intervista rilasciata al TG3, il ministro dello sport Spadafora ha parlato di due date per la ripartenza calcistica, 13-20 giugno, con match da disputare probabilmente alle 18.30 e alle 21, viste le alte temperature estive. Inoltre Spadafora ha confermato che giovedì 28 maggio verrà presa una decisione definitiva nel vertice FGC e Lega, in cui la sede verrà deciso se di quando ripartire. A tal proposito, il ministro ha detto, facciamo riferimento al momento tedesco, dove con Sky è stata prevista la diretta gol per tutti, con il diritto dell'abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita. Potremmo pensarci anche noi in Italia. Per quanto riguarda il protocollo sanitario, su questo punto il ministro dello sport ha reso noto di aver recepito in anticipo di un giorno rispetto ai tempi previsti un protocollo molto simile a quello per la ripresa degli allenamenti. Per il resto vengono confermati test sierologici, tamponi, come da protocollo della Federazione Medico Sportiva. Insomma, crescono di giorno in giorno le speranze di vedere ripartire il calcio italiano a presto. Grazie. 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 Grazie.